Ci troviamo in via dello stadio a Lentini, accanto al muro della Villa Gorgia, il principale giardino pubblico del paese. Ecco, il muro che vedete alle mie spalle è da restaurare, come segnalano gli amici della Villa Gorgia. Io faccio parte di un gruppo chiamato gli amici della Villa Gorgia di Lentini e in questo momento, come abbiamo visto diversi episodi nel passato, che io mentre ero qua al mercato che passeggiavo per fare la spesa, qualche volta cadono qui nel muro dei pezzi di cemento e con il pericolo che le persone passano e si fanno abbastanza male. Noi chiediamo qua in questo momento al signor sindaco di Lentini di provvedere subito per restaurare questo muro affinché non succede qualcosa di peggio, giustamente, perché c'è tanti anni che devono ristrutturare questo muro e fino in questo momento ancora nessuno provvede. Ecco, a quanto pare anche gli scarichi dell'acqua piovana sono rotti. Sì, infatti come stiamo vedendo qua il tubo dello scarico piovano, come passano anche delle persone, ci arriva anche l'acqua in testa. Si fanno il bagno? Certo, si fanno la doccia prima di piovere. Io fino in questo momento chiedo al signor sindaco di provvedere per queste cose.